di questa iniziativa. Si è parlato di radio, di storie di radio, radio biellese sul territorio, noi siamo diventati da qualche tempo radio biellese, abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti questa grande iniziativa, vorrei precisare alcune date, 1975, la nascita delle prime radio, quindi radio biellesi, radio di Vercelli, radio del territorio, Radio City nel corso del tempo, nel corso degli anni, è diventata, lo è dottora, si sta sempre più indirizzando con questa caratteristica di un servizio di promozione delle iniziative del territorio, valorizzazione del territorio e promozione delle iniziative che su un territorio allargato, non è più soltanto Biela, non è più soltanto Vercelli, è diventato anche Novara, il Piemonte orientale, oggi si ragiona molto di quadrante, per cui anche gli organi di informazione, che siano via etere, che siano scritti, carta stampata, si devono adeguare un po' a questa nuova realtà. Quindi Radio City, radio del territorio, radio che da tempo già segue e presta tutto il proprio know-how, la propria esperienza e professionalità alla promozione di iniziative come questa che vanno sicuramente nella direzione giusta e corretta. L'acquisto di questa apparecchiatura servirà tutto il territorio ma credo che a questo punto servirà anche molto l'utilizzo di persone che vengono e verranno da altri territori. Cosa faremo noi? La faccio breve. Abbiamo già sentito di iniziative che si svilupperanno nell'arco di questi due giorni, 18 e 19 di ottobre. In particolare sabato 18 Radio City sarà presente presso lo stand Lilt al centro commerciale Iossi. Avremo alcuni nel corso del pomeriggio, nel corso del pomeriggio a partire dalle 14 e 30 avremo alcuni collegamenti, faremo alcuni collegamenti in diretta. Noi in studio e altri operatori e colleghi presso lo stand Lilt proprio per presentare questa campagna, 22esima edizione del nostro Rosa, quello che si farà a Biella. Si parlerà ovviamente di prevenzione, questo credo che sia uno degli obiettivi della nostra presenza, non soltanto prevenzione, quello che si può fare, quello che succederà durante questi due giorni, quindi a partire dalle 14 e 30, vari collegamenti alternati ovviamente a tutte le attività che sono già state presentate e che avranno svolgimento in questi due giorni. L'attività nostra della radio a sostegno dell'iniziativa ovviamente non si concluderà in questi due giorni con questa particolare iniziativa per cui continueremo anche a seguirla nel futuro, per dare conto di come andrà a finire, del risultato raggiunto e di tutte le attività ovviamente che volgerà e proporrà la Lilt sul territorio indienese. Grazie.